Questo programma è offerto da Siamo nel cuore della Versilia, precisamente a Via Reggio Fonti antiche raccontano che il nome abbia due possibili derivazioni latine Via Regis, il nome della strada che nel Medioevo la collegava a Lucca e Vicus Regius, essendo essa nucleo abitativo di proprietà imperiale Chissà quale sarà dei due Nonostante siano stati ritrovati insediamenti umani in Versilia risalenti al periodo preistorico Il vero e proprio nucleo abitativo di Via Reggio nasce nella prima metà del XVI secolo Quando la città rappresentava l'unico sbocco sul mare della Repubblica di Lucca Ed è proprio a quel periodo che risale il più antico edificio La famosissima Torre Matilda Eletta da Lucchesi nel 1541 per fronteggiare le intrusioni dei pirati barbareschi Oggi questa bellissima città toscana Oltre ad essere conosciuta come località di turismo balneare Per la pesca, per la floricultura E soprattutto rinomata per il suo famoso carnevale Nato nel 1873 Da 139 anni il carnevale di Via Reggio è la più spettacolare festa italiana Ed infatti proprio qui che si svolge la famosa sfilata dei carri Che è legata ad un importante episodio del passato Quando alcuni giovani borghesi decisero di mascherarsi Per protestare contro le tasse Tra i giovani benestanti della città Nacque l'idea di una parata di carrozza Che anche se aveva carattere di sbeffeggio Metteva nudo ed esorcizzava i problemi della società Quando si pensa a Via Reggio si pensa al carnevale Quando si pensa al carnevale si pensa a Via Reggio Ci sai dire come nasce questo indissolubile binomio ormai da anni? Beh è un binomio ormai consolidato da 144 anni Era il 1873 Il giorno di martedì grasso una prima sfilata di carrozze nel cuore storico della città Ha dato il via a questa che oggi è la più grande manifestazione folcloristica d'Italia nel suo genere Abbiamo dei carri giganteschi che sono il fiore all'occhiello della nostra tradizione Via Reggio, città di forte personalità Che ospita diversi eventi sia culturali che sportivi Questa settimana avrà un solo protagonista assoluto Il trentasesimo rally del carnevale Prima tappa del Rally Piston Cup 2017 Sabato mattina sono 71 gli equipaggi che si sono presentati a Massarosa Per effettuare dapprima le verifiche sportive e poi quelle tecniche Ottenendo l'idoneità a partecipare alla gara toscana Quando lo splendido sole che ci aveva accompagnato per tutta la giornata È andato a nascondersi dietro l'orizzonte I viali della città del carnevale sono stati pacificamente invasi dalle auto da rally Che alle 23.01 hanno preso il via della gara Due le prove speciali da percorrere tre volte ciascuna La prima è quella di Farneta, 6 km e 900 metri Che racchiudono in sé una serie di curve velocissime Davvero difficili da interpretare con la sola luce dei fari delle vetture A vincere il primo passaggio è Darcio Che fa suonare la carica alla sua vecchia, ma mai doma, Renault Clio Williams Secondo, con un ritardo di solo un decimo, è Rovatti Che come al solito dimostra di essere l'uomo da battere Anche se alla guida di un piccolo mostro qual è la sua Peugeot 106 kit Terzo in prova è Bertolozzi Con un ritardo dal primo di meno di 3 secondi Arzà è quarto Mentre il favorito alla vittoria prima del via Panzani È quinto con un ritardo dal leader di poco più di 5 secondi La seconda prova è quella di Montepitoro 5 km e 330 metri di asfalto Che sembrano disegnati appositamente per far disputare una gara di rally Salita, discesa, curve veloci e tornanti Tutto quello che occorre per lo spettacolo del rally, qua c'è Rovatti vince la prova con 8 decimi di vantaggio su un rimontante Panzani Arzà, terzo, non è intenzionato a mollare la scia di Rovatti Mentre Darcio paga l'errore di non aver scaldato a sufficienza le gomme Prima di entrare in prova Ed è sesto Al primo riordino Rovatti è primo assoluto Seguito da Darcio e Arzà Secondo giro Al semaforo dello start della terza prova speciale Gli occhi di Panzani, sbarrati verso l'infinito Rendono evidente la sua concentrazione e il suo obiettivo Obiettivo che riesce a centrare vincendo la prova speciale Arzà sorprende tutti ed è secondo a 5 decimi Mentre Darcio è terzo Rovatti si gira e nel tentativo di recuperare il tempo perso commette un errore Toccando un terrapieno con la ruota posteriore piega il ponte della sua Peugeot Degna di nota la prestazione di Orsi, nono assoluto su questa prova Il secondo passaggio di Montepitoro è vinto da Darcio Secondo Panzani E terzo Arzà Tutti e tre racchiusi in 7 decimi Intanto Barsotti conquista la decima posizione assoluta su questa prova Facendo volare la sua Fiat 600 kit Ultimo giro Si vanno ad affrontare le due prove finali prima dell'arrivo Con tre equipaggi racchiusi in soli 3 secondi Ed un Rovatti ancora guerrito Anche se ormai fuori dai giochi per la vittoria Su Farneta vince Darcio Su Montepitoro invece a vincere uno scatenato Rovatti 100 Sinistra 3 Più Bella Che scemo Grande Bellissimo Fatto un po' di show La notte è ormai finita E a Viareggio il palco di arrivo è illuminato dalle prime luci dell'alba Ma prima di festeggiare insieme ai vincitori Andiamo a vedere che cosa è successo nelle altre classi di questa splendida gara Primo in classe R1A L'equipaggio formato da Silver e Bagattoni Autori di una gara regolare con la loro Suzuki Swift In N0 Giorgetti navigato da Barsotti Vincono la classe alla guida della loro Fiat 600 Boncristiani e Bertagna Che bagnano il parabrezza della loro Peugeot 106 Festeggiando la vittoria della classe A5 Con una Rover MG 105 Lucchesi con alle note Pellegrini Sono i vincitori della classe N1 Salani coadiuvato da Giannarini Vincono la classe A6 alla guida della loro Citroen Saxo Martinelli e Portera sono i vincitori della classe R3T Dopo aver preso le misure alla loro Citroen DS3 Non facile da domesticare Azzanotti e Bernardi La coppa più alta della classe N3 Dove hanno dominato con la loro Renault Clio Barsotti e Arcangeli Oltre a vincere la classe A0 Portano la loro Fiat 600 in quindicesima posizione assoluta Dimostrando grandi doti di guida Furci e Invernizi Hanno dovuto dapprima affiatarsi un po' dentro l'abitacolo E dopo fare i conti con lo sporco ed italioni Ai quali forse non erano abituati Comunque sono loro i vincitori di classe Super 1600 Vita, figlio d'arte e Michi Uno dei navigatori più esperti nel palmaress italiano Hanno vinto la classe N4 E portato la loro Mitsubishi in decima posizione assoluta Noni assoluti e primi di classe N2 Bozzoli e Andreini Non avrebbero potuto chiedere di meglio La loro Peugeot 1600 di gruppo N Hanno dimostrato di essere velocissimi Rovatti con alle note Catone Vincono la classe K10 Ma senza quell'errore Dove avrebbero potuto arrivare? Avranno modo di rifarsi E da adesso eccoci arrivati al podio Sì, quei tre gradini di altezza diversa Che per un giorno ti fanno sentire un supereroe Su quello più basso salgono Arzà E il suo navigatore Moriconi Che hanno guidato la loro Peugeot 208 Di casa Rally Experience In modo perfetto Stupendo tutti E oltre a vincere la classe R2B Sono loro i terzi assoluti di questa gara Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo Eravamo qua per provare questa macchina Per fare strada e fare un po' di chilometri con questa macchina E invece poi è venuto anche un bel risultato E quindi ne siamo doppiamente soddisfatti Volevo ringraziare la Rally Experience Per il fatto di avermi dato questa opportunità di usare questa macchina E tutti quelli che ci hanno seguito Panzani e Luisi Notto Come abbiamo già detto Partivano come favoriti alla vittoria Ma qualcosa non ha girato come al solito O forse non si aspettavano tanta ostilità dagli avversari Chissà Comunque vincendo la classe R3C Sono i secondi assoluti nella lunga notte del rally Darcio, con alle note filippini Oltre ad aggiudicarsi la classe A7 Con la loro Clio Williams Sono i vincitori assoluti del 36esimo rally del Carnevale Prima tappa della Rally Piston Cup Sì, è una vittoria assoluta Ma ce la siamo sudata proprio fino alla fine Siamo partiti forte Poi dopo l'abbiamo preso due prove Vedendo il distacco che avevamo Abbiamo detto tiriamo la morte E siamo riusciti a vincere il rally del Carnevale Rally Piston Cup Vince chi merita Alla gara toscana hanno partecipato Sei dei dieci conduttori Iscritti fino ad oggi alla Serie 2017 Alla fine La classifica vede in prima posizione Darcio Luciano Che con una gara da incorniciare Ha cannibalizzato ogni possibile premio Primo assoluto in gara Primo di gruppo A Primo di classe A7 E detentore della leadership nella Serie Secondo in classifica Il vincitore della Rally Piston Cup 2016 Rovatti Michele Che ha comunque dimostrato Di voler essere protagonista assoluto Della Serie anche quest'anno Terzo Comendulli Paolo New entry della Serie Che con un'ottima quattordicesima posizione assoluta in gara Ha conquistato il terzo gradino dell'assoluta nella Serie Quarto Furci Alessandro Penalizzato dallo sporco che ha trovato sulle prove E al quale non è abituato Ha comunque vinto la classe Super 1600 E messo in cassaforte un buon punteggio per la Serie Quinto Santucci Matteo Il follo nichese Dopo un 2016 travagliato dai molti ritiri per guai meccanici Ci riprova E con la piccola 106 Mette a cassa già un bel po' di punti Sesto Ferrari Michele Il gentleman driver per antonomasia L'espressione soddisfatta del suo volto a fine gara Basta far capire come lui affronti ed ami questo sport Che in passato lo ha visto molte volte sul podio di gare blasonate Per lui un bottino di punti buono per il proseguimento della Serie 2017 Questo programma è offerto da Grazie a tutti Grazie a tutti